Sì, è lì! Questo siete, questo è il vostro livello. Sì, è lì! Questo, come al solito, è l'inutilità di girare dal muro che ha ribattato. Sì, è lì! Bello, brava! Sì, è lì! 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 Dovevi anche saltare però, oltre che essere lì a guardare l'azione di gioco come il tuo solito. Tanto fa solo diagonale, non ha nessun altro colpo. Come questa qui fa soltanto palla corta, perché se prova forza la tira in rete. Grazie. Non è neanche strategicamente intelligente quello che stai facendo, proprio neanche questo. L'area li puoi muovere i piedi, eh? Ma che state? Ma chi è? Quanto stiamo? Come fanno a tenerlo loro che state voi la loro coppia singola, in battuta? Ognuno tiene i punti contro la coppia. No, è un sette unico, se no cosa serve a sbagliare la battuta? Non ha senso. Qual è il punteggio? Per chi? Va bene, guarda. Perché era unitario. Sommate i punti? Ok. Vai, cambio. Oh, c'è l'altro. E come al solito, Ilaria pronta di un santo... Ilaria era già imbattuta, era, pensa a te. No, non è vero. Ilaria, non ci è fatta neanche a saltare o a stendere il braccio. Quante conquistazioni, quanto tempo occorrono? Ilaria, sei imbattuta, andiamo, su, sveglia! Mattona! Mattona! Ma in questo posto, ti dovevi già essere qua, ci metti 40 minuti! Guarda, non saltare addosso a Nicola, poverina, che ha dato la palla per attaccarla, che è una battuta di merda. Nicola, spiegaglielo te. E Daya, e colpisce il difensore. Lei attacca lo suo pallone. Ma in questo posto, non ci metti, che è un'altra parte. bello 5-3 3-9-5 ok 4-5 vai in là perfezione assoluta bianca non storgere la schiena sono le gambe che devi piegare se tu fai questo la ricezione rimane uguale devi fare questo al massimo la stessa maniera andiamo qua scuola in là aria 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 madonna nicole che difesa sbogliata già da morta dietro di tete con la manina flacida non cambia un cazzo bianca tu storgi la schiena cioè tu fai questo così guarda che sono le braccia che danno la direzione del bagger ottima idea non cambia un cazzo cazzo fuori troppo aperto si ma non dormi a di secondo dobbiamo giocarti ciao ero ciao raga chiedi a chi vi sentiamo dopo cazzo di punto a re perché se lo faccio di gattare vai qua tieni dritto il braccio hai la mano aperta non l'hai mai portato davide non inventa le cazzate non abbiamo neanche il tuo cappello del torrazzo qua questo è il punto di francesca così è troppo vomitevole e che cazzo i pollici metteteli prima nel culo così le esate non palleggi con i pollici brava Elisa proviamo a usarli prima i pollici li metti tutti e due nel culo così e poi vieni a palleggiare vincolo 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 vincolo